Torno a casa, vediamo cosa succede. Sì, sì. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è che hai fatto? Il papà! È il tuo papà! Dimmi! Così dimmi! Di! Cosa c'è? Ah, io te mi piado! Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è papà? Guarda chi è! Oì! No, è qui! No, è qui! Chi è? Vieni, devo dentro! Dentro, dentro! Dentro, dentro! Chi è? Oh, aspetta! Chi è che hai fatto? Chi è che hai fatto? Hai la mano! Hai la mano! Chi è che hai? Aia! Aia! Uè, ma sei matta! Eh? Pie! Oh! Chi è? Chi è? Chi è? Aia! 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 Non mordere! Camiseria! Chi è? Non mordere! Chi è? Cosa? Cosa è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ora sapiamo dove viva! Chi è che è? No, 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 no.